Musica Hola ragazzi da Nick e bentornati sulla Nick Craft Allora ragazzi andiamo a vedere se 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 è andata come dico io E' andata ragazzi come dico io Possiamo vedere raga che l'erba è diventata verde E già questa è una cosa decisamente positiva Solo che non è diventata verde dall'altra parte Perché ovviamente non è collegata Ma non è un problema Figuiamo un po' di tanto questa terra è da togliere Perché ormai non serve più Allora se vogliamo trasferire il verde Basterà che togliamo un attimo sti blocchi Al loro posto ci mettiamo la terra Raga è così Adesso si dovrebbe trasferire da un punto all'altro E dopodiché si spera che ste mucche mangiano E cioè che le capre mangiano Quasi quasi facciamo pure st'altro bocco pur di andare sul sicuro Ok Beh dovrebbe spostarsi prima o poi il verde No? Torneremo tra un po' a vedere ad assicurarci della situazione Ma direi che possiamo però rimuovere questi che adesso non servono più Questo verde avanza e non c'è motivo Ok Certo chiaramente non è che adesso io Non ho ovviamente la sabbia per coprire sto buco Ma cosa c'è qua? C'è un dungeon? No Semplicemente una casa abbandonata da chissà chi Va bene il verde si sta trasferito Oh yeah E anche velocemente si sta trasferendo Dai Tra un po' le mie belle pecore finalmente avranno di che mangiare Io sto buco me lo copro Vediamo se dentro casa abbiamo Ah dove ho messo Aspetta forse è qua E questo? Dovrebbe andare bene no? Ok Beh buco tappato Vediamo ragazzi si trasferisce ciò del cibo Ok si sta trasferendo All'interno del recinto Questa è una cosa positiva Vabbè lasciamo stare così come perché Non li voglio togliere adesso i blocchi Non vorrei che poi non va avanti la cosa Va bene Quindi la vorrei tappare quel buco Che ci mettiamo Vediamo un po' Abbiamo della sandstone Vai un po' di sandstone Quindi mi chiamo sto coso Sì io penso che forse la sandstone È l'ideale Dato che abbiamo fatto il tutto in sandstone Non ha senso poi Non metterci La sandstone Vediamo un po' Se abbiamo Una Cioè va Oh sì dai Pilastro alla minecraft Allora manca l'illuminazione però Dovremmo fare qualche lampadario Eh già Ci vuole no? Che fa? Ormai che ci siamo Che fa? Non li illuminiamo Il posto Allora Tu torna a sandstone normale Quindi dentro 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 Che è stato? Non lo so Ho visto qualcosa di strano E mi sono preoccupato Questo va dentro Ok Quindi stava Ok le noccioline Che risalgono Ok Allora stava a dire Le luci Come si chiamano le luci? Che non mi ricordo più Lamp Lamp Non era lamp No 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 Oh sì Sì è questo Esattamente come quelle Che ho usato per Esattamente come quelle Che ho usato Per il grattacielo Ok praticamente Manca giusto un po' Di bone meal Manomale che abbiamo La fabbrica lì Di os Ok Uno stack Vabbè Boh Eh sì Tanto ho finito il vetro Ah Momento Momento Il signor vetro È desiderato Al rapporto Sì Allora Questo va dentro Facciamo Ok Questi ce li abbiamo Ce li abbiamo Ok Ci siamo Ragà Ovviamente li voglio Bianchi Perché a me piacciono Bianchi Ok Dieci Potranno bastare Ok però Il problema Vabbè tanto Questi sono già Accesi O li lascio sempre Accesi E non ci penso più Perché Se vogliamo Il sistema Che li spegne Che li spegne Più che altro Il problema È quello Aspetta Vabbè dai Allora Va bene Comunque Dai che sta Caffa Buio Ecco però C'è un problema Questi Dove li metto Li dovrei mettere Decisamente appesi Al muro Perché non è che Posso mica Metterli Potrei anche Metterli per terra Vediamo un po' Se tipo Ne metto Uno qua E Uno qua Ci può stare Oh però Non è brutto Il problema È solo Che poi Chiaramente Qui sopra Si vede Questo Però Illumina Comunque Non mi sembra Una brutta idea Vediamo Potrei Metterne Poi Uno qua Un altro Qua Così Abbiamo Altri due Che distanza C'è dai Uno due Tre Quattro Cinque Quindi Uno due Tre Quattro Cinque Quindi Giustamente Andrebbe Messo Qua Momento Uno due Tre Quattro Mi pare Che va Messo Qua No Ok Vediamo Un po' Qui Com'è Ok Questi Sono Solo Appunto Delle Luci De Lampadari Ce ne Vorrebbe Magari Uno pure Messo Tipo Qua Da Qualche Parte Per Illuminare Questo Punto Magari Dalla Parte Di Sotto Si Capisce Meglio Dove Lo metto Metto Qua Ok Quindi Abbiamo Luci Sotto E Luci Sopra Dovremmo Mettere Dovremmo Mettere Tutto Allo Stesso Modo Anche Qua Ok E Così Raga Dovremmo Esserci Li Ho Finiti Raga Andiamo A fare Un altro Po Di Queste Lampade Rimangono Sempre Accese Ma Che Importa Tanto Alla Fine Va Bene Anche Così Uh E Questo Dove Uscito Ce Ne Avevo Un Altro Allora Ma Che Aspetta Cos' Finito Ah Ho Finito Ok Le Torce Redstone Facciamone Perché Ah Ok Ne abbiamo Adesso Un bel Po Quindi Lamp Questo Questo Quanto Ne Riusciamo A Fa Ok Dovrebbero Ok 14 Speriamo Che Bastano Perfetto Andiamo a mettere Queste Perché Dovrei Mettere No Aspetta Non c'è bisogno Che le metto Sotto Che serve Allora Qua Qua Qui Qua Qua Avanti Ne manca Una Qui Ok Abbiamo Ragazzi Anche L'illuminazione Perché Poi Quando c'è Il buio Queste Luce Ovviamente Qui Illuminano Un po Quindi Comunque Si vede Dai E Soprattutto Anche Qua Qui Viene Illuminato Sia Da sotto Sia Da sopra E Qui Viene Illuminato Da sopra Quindi Diciamo Che L'illuminazione C'è Ci Vorrebbe Anche L'illuminazione Qui Non lo So Tipo Così Ok Che Questa È L'entrata Poi I slab Direi Proprio Che Ecco Questo Qui Non Ci Andava Però Ok Abbiamo Così Slab Che Vanno Nel Punto Giusto Mi pare Che Il Parcheggio Ragazzi Sta Ce L'abbiamo Dovremmo Continuare Il Grattacielo Questo Questo È Poco Ma Sicuro Allora Per Continuare Il Grattacielo Abbiamo Il Primo Piano Arriviamo Allora Marble Arriviamo Magari A fare Il Secondo Piano Nel Primo Piano Ci Dovrei Fare La Banca Ma Non Non Ho Granché Idee Magari Cominciamo A Mettere Il Necessario Per Avere La Banca Poi Non So Come Renderla Più Particolare Diciamo Con I Blocchi Di Minecraft Creare Una Banca Non Ho Una Grandissima Idea Su Come La Potrei Mai Fare Allora Marble No No Questo Non Mi Serve Allora Dunque Marble Ci Siamo Pichiamo Altro Marble Ok Per Ora Abbiamo Il Marble Vediamo Quindi Di Fare Il Cosiddetto Terzo Piano Giusto Solo Diciamo Che C'è Allora Prima Ah Già Che Poi Alla Fine C'è L'ascensore Usiamo Quindi Stiamo Andando Nell' L'ultimo Piano Che Sarebbe Il Secondo Manca Ancora Tutto Il Vetro Aspetta Questo Ok Dobbiamo Fare Il Vetro Anche Va Bene Dunque La Cosa Interessante Da Capire Dove Lo Devo Fare Questo In Altezza In Altezza Non Mi Ricordo Andiamo Al Primo Piano Dov'è Allora Che abbiamo 1 2 3 1 2 3 4 Quindi Devo avere 7 blocchi Di vetro Ok 7 blocchi Di vetro Capito Ok Adesso Sappiamo Dove fare Allora 1 2 3 4 Quindi Qua ci viene Il terzo Piano Esattamente Viene qua Adesso Non so Di preciso Ok Credo Fino A qua Oddio Le mie ali Ok Quindi Raga Comincio A fare Il terzo Piano E poi Dobbiamo Possiamo Iniziare Con la banca Sì vabbè Stavo facendo Disastri E poi vediamo un po' Con sta banca Io non ho la più palida idea Non ne ho mai fatta una Devo dire Ecco Ok ragazzi Credo che Ho finito Qui con Il marble Mi pare Di aver coperto Tutto A parte Aver messo Qualche blocco Dove non dovevo Ecco Qualche blocco Dove non avrei dovuto Ok Questo non c'è più Vediamo un po' Ecco Il parcheggio Ragazzi Da qua si può vedere Che Bello Illuminato Durante questa notte Perfetto Qui il vetro C'è Qui bisogna Ecco appunto Abbiamo bisogno Di tanto vetro Abbiamo bisogno Di molto vetro Beh poi Anche l'illuminazione Qui si deve fare Beh a riguardo Vedremo come farla Non ho una Idea precisa Al momento Allora Se abbiamo bisogno Di vetro Ho bisogno Di sabbia E la sabbia Blu E la sabbia E la sabbia E la sabbia Dov'ha Pio Che fa Taglio un'altra Montagna O se no Mi metto un po' A scavare Pio un po' Di sabbia Così Perché abbiamo bisogno Del vetro Per coprire Tante belle cose Quindi se Mi do una Mossa Tipo così Tipo se Io vado così Raga Dovrei Riuscire A prendere Un bel po' Di vetro Tanto oramai Conosco Delle tecniche Per stare Accanto Al Alla sabbia Vedete E la raccolgo Come niente fosse Vabbò Ho raccolto Un po' Di sabbia Raga Dai Andiamo a Cucinarla Andiamo a Cucinare La sabbia Eh a poco a poco Ci vorrà del tempo Per sistemare Il grattaccio Eh ci vuole tempo Per fare un po' Tutto Dai Per intanto Andiamo a Sistemare Sta storia Allora dunque Che dovevo fare La sabbia Ah ma il vetro C'è Ti pare che Me lo ricordavo Mi sono convinto Che neanche L'avevo Il vetro E chi se lo Ricordavo Dopo un bel pezzo Dai Non mi ricordavo Del vetro Ok Allora il vetro C'è Allora se il vetro C'è Mi serve Però un'altra cosa Mi serve Un po' Di iron Quindi il vetro C'è Pidiamo anche Un po' Di sto vetro Ok Dunque Posso liberarmi Di un qualche cosa Vabbè Pidiamo un altro po' Di vetro Ok Quindi raga Beviamo Ovviamente Non posso Se prima Non butto Qualcosa Va bene Quindi direi Che andiamo A completare Il vetro Magari prima Dormiamo Un attimo Così abbiamo Anche Un altro piano Però dobbiamo Prima o poi Appunto Devo pensare Alla banca Però sta cosa Mi devo fare Un po' L'idea Perché Non so come Farla Bisogna farla Però Devo un po' Rifletterci Come Però una volta Che la facciamo Sta banca Finalmente Arriveranno I banchieri No Arriveranno Quelli che poi Ci scambiano Insomma I soldi Quindi Comunque Se non dico Cavolate Ah Anche lì sotto Non è completo Vabbè Comunque Vai Poco ma sicuro Che questa È una cosa Che dobbiamo Fare Allora Ci portiamo Avanti No Aspetta Qua no Qua ci va Qui Teoricamente Ci va L'oro Certo Perché Questo è Un altro Piano E qui Ci va L'oro Ok Quanto Meno Qui col Vetro Ci siamo Dobbiamo Andare Nel piano Di sotto Perché qua Dobbiamo Completare Con il Vetro Vedete Che Manca Dai Questa volta Di vetro Ne ho Tanto Mi pare Che col vetro Al momento Ci siamo Ok Anche Quest'altro È fatto Bisogna Andare Su Andiamo Su Con le Ali Per ora Quindi Dovrei Portare Su Anche I pilastri Ok Ancora È lontano Ovviamente Il traguardo Ci vorrebbe Vabbè Dell'oro Certo Perché Dobbiamo Sistemare Questa Storia Dov'è Allora Mi serve Dell'oro Il coso Dove l'ho Lasciato Ce l'ho Con me Questo Mi serve Uno di Questo Il Questo Ce l'ho Allora Mettiamo Un attimino Questo Magari Dove lo metto Mettiamo Mettiamolo Qua Mi serve Quindi Dell'oro Oro Facciamo Tre stack Di oro Quindi Uno Due E tre Ok Mi pare Che abbiamo Il necessario Andiamo Andiamo A costruire Anche qui Dunque Ci dobbiamo Mettere Questi Poi Qua Mi sono Dimenticato Il presso Plate Alla Porta Vabbè Fa niente Dunque Lì Ci va Il vetro Ok Ok Vabbè Poi Sto vetro Lo portiamo Più Più Sopra Per il momento Facciamo giusto Le pareti Ok Dunque Qua Ci va Il pulsante Ok Quindi Dobbiamo andare A pian terreno Se non ci siamo Già Andiamo Qui Va bene Oddio Ok Ok Dunque Questo Maintenance Mode Andiamo Cosopra Colleghiamolo Mettiamo Il blocco Questo qua Andiamo Giù Completato Ok Va bene Quindi abbiamo collegato Anche l'ultimo Piano Attualmente Disponibile E ci stiamo Andando Ok Funziona E quindi Ragazzi Abbiamo anche Un altro Piano Pronto Ok Allora Riguardo Al Vorrei fare Quindi ragazzi Questa Banca No Perché Diciamo Oddio Che è successo Mi è crashato Il gioco Un attimo Ok Ragazzi Diciamo Sono rientrato In gioco Mi era crashato Quindi Boh Siamo niente Di grave Comunque Vi stavo a dire Che per l'appunto Riguardo alla banca Ci devo un po' Riflettere Su come La possiamo fare Se voi avete Qualche idea O certo Non venite ma a dire Fai la porta blindata Perché non ho La più pallida idea Di come si possa mai fare Però magari Se mi viene Un po' in mente Come si potesse fare Una roba simile Però intanto Alla fine Con tutto il vetro Attorno Che c'è Che senso ha Una porta blindata Se poi dietro C'è il vetro E poi comunque Non avrebbe senso Lo stesso Dato che Comunque Comunque Non è certo Un posto Tanto sicuro Per dire Vabbè Comunque Per il momento Ragazzi Direi che ci fermiamo Qui così Che comunque Perché mi piace dire Comunque Riesco un po' A pensare A come possiamo Fare questa banca Se voi avete Se voi avete qualche suggerimento Così magari Iniziamo un po' A scambiare Sti soldi E niente ragazzi Quindi Ci stiamo portando avanti Ormai penso Che bene o male Il garage è pronto Spero ragazzi Che questo gameplay Vi sia piaciuto Appunto Consigliatemi Riguardo a Sta banca Come la possiamo fare E quindi Ragazzi Ci becchiamo presto Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione In su Ciao ragazzi Ciao ragazzi